Le ultime segnalazioni solamente qualche giorno fa a pubblicare sui social le immagini che testimoniano la presenza di zanzari all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alla Grucia era stata ancora una volta la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiesa e Martini. Adesso l'Asla Toscana Sud-Est annuncia una nuova disinfestazione dopo quella effettuata tra l'8 e il 9 agosto lungo tutta l'area perimetrale della struttura e che si somma agli altri trattamenti sia interni che esterni effettuati sino ad adesso e in programma anche nei prossimi mesi concordati con gli uffici tecnici dopo attenti sopralluoghi. Dunque dalle 20 del 10 agosto alle 8 dell'11 agosto sarà effettuato l'intervento di disinfestazione straordinario delle zanzari all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Valdarnese. Per ottimizzare e svolgere l'intervento nella massima sicurezza del personale e dell'utenza tutte le attività di pronto soccorso saranno trasferite al poliambulatorio 1. L'accesso sarà consentito dall'ingresso lato cappelline. La decisione è stata assunta dalla direzione del presidio ospedaliero di concerto con il servizio di prevenzione e protezione, l'ufficio tecnico, il direttore e il coordinatore del pronto soccorso.